E batti tu animale, batte come non ce n'è, e c'è un tiro omicidiale che ti prende... Il Capodanno è alle porte e la città di Trani si prepara a festeggiarlo in grande stile. Fervono i preparativi per l'evento musicale che farà convergere turisti e pugliesi nella splendida Piazza Quercia, palcoscenico naturale che si specchia nel caratteristico porto turistico. A partire dalle ore 22.30 del 31 dicembre prossimo, infatti, si accenderanno i riflettori della grande festa organizzata per dare il benvenuto al 2024. Uno spettacolo fortemente voluto dall'amministrazione comunale con una vocazione intergenerazionale. Star indiscussa della serata, uno dei più apprezzati cantautori italiani, Raff. Il pubblico sarà pronto a cantare con uno dei talenti più ispirati e originali del pop italiano, i brani più famosi della sua quarantennale carriera, dal successo internazionale di self-control alle ultime novità come «Ottanta voglia di te», tratto dal suo ultimo concept album, «La mia casa». A cadenzare le sei ore di spettacolo, le coreografie interpretate da ballerine e ballerini della scuola di danza Studio Danza di Trani. Una festa che introdurrà il cantautore di Infinito e di Il Battito Animale, traghettando il pubblico fino al countdown della fine dell'anno. Grazie. Grazie. Grazie.